La nostra Elisabetta Rossi, un bel applauso. Il nostro ragazzo è il misto umano, misto caro, misto. La nostra Elisabetta Rossi, un bel applauso. 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 La concorrente, un bel applauso. Si aggiudica 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 la concorrente, un bel applauso. Miss Garum, con 1574 voti. La concorrente, un bel applauso. 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 La concorrente, un bel applauso.